Hello, 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 girls! Bentornate o benvenute sul mio canale, amiche! Siamo tutte qua riunite oggi, amore, perché vi devo fare finalmente questo benedetto Black Friday haul, ragazzi! Perché finalmente mi è arrivato letteralmente tutto a distanza tipo di un mese, ma whatever, guys, whatever! Perché questo video, io non so, non ho la più palida idea di quanto sarà lungo, perché questo mio Black Friday shopping è stato molto compulsivo e poco ragionato. Quindi, raga, senza alcun indugio io direi di incominciare assolutamente e prima di incominciare io vi consiglio di avere al vostro fianco la vostra bevanda preferita, Il vostro snack preferito, patatine, popcorn, in pepata di cozze, parmigiana, carbonara, tiramisù. Dovete sapere che io ho un amore spassionato per Asos, adoro Asos, penso che il buon 80% del mio armadio sia proveniente da quel sito. Io mi trovo benissimo, ho preso un sacco di tute sportive, raga, è il mio momento sporty spice, so don't judge me. Ok, raga, il primo pezzo che vi voglio far vedere è questa felpa un po' crop di Nike, Nike, qual si voglia dire. È fatta così con il logo della Nike qua, of course, she is pink, because you guys know pink is my favorite color. E questa qua, raga, l'ho pagata 30 euro, anziché tipo 50, una cosa del genere. E c'è anche il pezzo di sotto, si è il pantalone, e adesso ve lo faccio vedere. Il pezzo di sotto, e anche questo tipo costava 50 euro, ma l'ho pagato tipo, non mi ricordo, una cosa come tipo 35, insomma. E finisce con l'elastico in questo modo. È un pantalone della tuta a vita alta, raga. Io penso di non aver mai trovato pantaloni della tuta a vita alta, e ho adorato, infatti l'ho presi subito. Next, raga, è questo pantalone della tuta, della Champion. Fa tutto così, raga, pazzesco. Appena l'ho visto ho detto, no, vabbè, lo voglio. In più era scontato, costava tipo 100 euro, l'ho pagato 70, una roba del genere, raga. Adoro, pazzesco. Anche questo è tipo un pochino a vita alta. Io ho preso anche la parte abbinata sopra, ve la faccio vedere appena mi capita, perché ho tipo qua una distesa di cose, come potete vedere. E adoro, oltretutto, raga, questo dentro è felpato, quindi è perfetto per l'inverno, se si va in montagna, insomma, whatever, ho adorato. Infatti penso che questa qua lo indosserò tipo il giorno, o la vigilia, o il giorno di Natale. Poi, raga, come vi stavo dicendo, I feel my sporty spice vibe. Quindi, un altro pantalone della tuta. Questo è della Nike. E questo qua è fatto così, super super easy, blue navy, con questa striscia arancione fluo. Cade così. Anche questa vita alta, raga, super super cute, per andare tipo a fare quelle commissioni veloci, tipo la spesa, le poste, insomma. Me lo sono immaginata per queste occasioni così. Oppure, tipo, giornata con le amiche di shopping e vuoi stare comoda, insomma, tutto quella sorta di vibe. E questo qua costava tipo 70 euro, l'ho pagato 50, se non mi sbaglio. Comunque, raga, io penso che se andate su Asos ancora... Ed è vita alta, credo di avervelo già detto in ogni caso. Comunque, se andate su Asos, penso che ancora riuscite a trovare qualcosa. Poi, raga, un altro pantalone della tuta. Questo è della Adidas. Adidas. Non so come si pronuncia. Io ho sempre detto Adidas, però so che non è corretto. Fatemi sapere qua sotto, insomma. Fatto sta che questo è un pantalone della tuta super super easy. Anche questa vita alta, quindi ho tipo adorato, raga, perché è veramente raro trovare pantaloni della tuta vita alta. Quindi tutti quelli che ho trovato li ho praticamente presi. E questo qua appunto, vita alta, nero. Dentro è felpato, quindi anche questo è perfetto per quegli inverni rigidi. E insomma, anche questo qua ha l'elastico finale un po' così sfiziosino. E questo qua credo di averlo pagato a prezzo pieno. Mi sembra che questo non era scontato e mi sembra che costava tipo 60, una roba del genere. Non mi ricordo bene, ma secondo me c'è ancora tutta la roba su Asos. E questo è un altro. Questo invece è della Nike ed è fatto così. Aspetta, mi sembra che questo è il lato giusto. Un po' così con l'elastico alla fine. Anche questo qua è a vita alta, raga, infatti ho adorato. Questo qua però non è felpato, quindi secondo me questo qua fino a maggio in teoria si potrebbe utilizzare. Questo qua l'ho pagato 43 euro, se non mi sbaglio. Però costava tipo 60, una roba del genere. Non mi ricordo bene. Comunque più o meno tutto quello che ho preso è scontato, raga, a parte quel pantalone dell'Aridas che vi ho fatto vedere prima. E questo è uno. Sempre abbinato al pantalone della tuta arancione c'è la felpa. Che appena l'ho vista ho detto, no vabbè, adoro. Favola. Anche questa non è molto pesante, però in realtà con un cappotto, una sciarpa, l'ha riuscita insomma a mettere. E secondo me sono molto versatili questi tessuti perché secondo me anche in primavera queste sono perfetti da utilizzare. Se non mi sbaglio questa qua invece l'ho pagata 35 anziché 45, una cosa del genere. E poi questa, raga. Amiche a casa che amate Harry Potter apprezzerete sicuramente questa mia scelta stilistica. Insomma, non era in sconto in realtà, Amorine, però costava tipo 19,90. Che la lasci là? Ma ovviamente no, raga. Questa qua praticamente, se non mi sbaglio, dovrebbe essere la locandina del primissimo Harry Potter e la Pietra Filosofale. Fatemi sapere se anche voi l'avessete andato a vederlo al cinema appena uscito. Down in the comments. Un'altra maglietta tema film. E questo qua praticamente adesso vi faccio vedere l'immagine. Voi stoppate e vediamo se riuscite a indovinare che film è. Allora, raga, la storia di questa maglietta è questa. Praticamente, io ne volevo una di Primark, che aveva proprio la locandina del film. Il giorno io non era andata con lui da Primark, quindi me la sono persa ovviamente. Da, of course. E fortuna ha voluto quando sono... La volta che invece sono andata io da Primark, avevo chiesto della maglietta. Non ce n'era neanche mezza, quindi ho detto eccoci qua. Quindi quando ho visto questa su Asos ho detto no, vabbè, la voglio assolutamente. Comunque, raga, per chi non lo conoscesse, il film è Clueless. Il titolo del film in italiano? Della maglietta che vi ho fatto vedere prima è Le ragazze di Beverly Hills. E parentesi dovrebbe essere su Netflix, amiche. E poi, amore, ne ultima ma non per importanza, la felpona della Champion. Quella appunto abbinata al pantalone che vi ho fatto vedere prima. Top pazzesca. Anche questa costava tipo 110 euro. Questa l'ho pagata 70 euro, una roba del genere. 80, non mi ricordo. E raga, questa, come il pantalone, è pesantissima. Cioè, secondo me questa solo in inverno si può utilizzare. Poi, raga, questo ha questo top ma flop nello stesso tempo perché ho sbagliato la taglia. È un po' stretto. E questo qua è un jeans, tipo mom jeans a vita alta. Tutto fatto a scacchi. E questo, raga, era pazzesco. Non potete capire quanto sono... Ci sono rimasta male e delusa del fatto che non mi entri. Infatti, motivo in più per dimagrire. Poi, raga, ho preso due cappellini. Uno tipo di lanetta e uno pelliccia sintetica. Pink da Of Course. Questo qua è della Nike. E questo qua l'ho pagato tipo 19,90. Una cosa del genere. Super, super cute. Adesso non ve li faccio vedere addosso, raga, perché sennò mi distruggo i capelli. Che già sono molto precari. E questo qua che è della marca Pieces. 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 I have no idea, guys. Ma comunque è una semplice cuffietta di pelliccia rosa. Poi, raga, ho preso queste scarpe qua dell'Adidas. Adoro, sono favolose. Non mi ricordo il nome del modello, ma un nome preciso, tipo 80s qualcosa. E le ho prese nella versione rosa. C'erano così, oppure tipo verde fluo. Ma appena le ho viste rosa, ho detto, no, ma devono essere assolutamente mie. Adoro. Costavano 100 euro e le ho pagate tipo 64. Quindi ho detto, no, vabbè. Favola. E poi, raga, ahimè, ha questo flop. Perché queste non mi piacciono per niente come mi stanno. E sono queste vans qua. Io ho le vans classiche, le old school. E quelle mi piacciono un botto. Le adoro, le compro, le ricompro. Ho voluto provare a prendere queste, ma mi stanno malissimo, raga. Mi fanno una fetta di piede che non mi sembra che è tipo il 57. E non mi piacciono affatto come mi stanno. Assolutamente. Poi tipo ti fanno il piede stralargo. Quindi assolutamente no. Queste non mi sono per niente piaciute. Infatti, boh, non so cosa farmene adesso. E queste qua le ho pagate tipo 70 anziché 90. Tipo una cosa del genere. Infatti mi dispiace un sacco. Ma, boh, che ci faccio? I have no idea, guys. Un po'. L'ultima cosa che ho preso su Asos è una borsa. Ed è questa qua. Io appena l'ho vista ho detto, no, vabbè, deve essere mia. She screamed my name. È super early 2000. Deve essere mia. Assolutamente. E questa qua, raga, l'ho pagata anziché 45, tipo. 35, una cosa del genere. O 25, non mi ricordo. Comunque è pazzesca. E questa raga me la sono un po' immaginata così. Una passaggiata con le amiche. Una serata pazzesca. Non lo so. Boh, adesso devo capire bene come usarla. Poi, ragazzi, come assolutamente volevo un paio di scarpe bianche. Ma quelle che ho preso, cioè le Vans, che vi ho fatto vedere prima, assolutamente non credo le indosserò mai nella mia vita. Sono andata un po' in giro su internet a cercare altre scarpe bianche, tipo, boh, così, no? E mi sono imbattuta su Zalando, amiche. Questa è l'unica cosa che ho preso su Zalando, by the way. E aveva tutte, raga, tipo tutte le scarpe strascontate. Io ho preso questo paio di scarpe qua dell'Adidas. Queste le ho già utilizzate, raga, le adoro. Sono, è tipo, sembra di camminare su una nuvola. Sono pazzesche. E queste qua, tipo, costavano 130 e io le ho pagate, tipo, 65. Quindi, tipo, le ho prese al... o 75, non mi ricordo. Quindi, tipo, le ho prese al volo. Queste si chiamano... Credo, credo, si chiami Sobakov, con la K. Pai, Marina, passiamo a Dollskill. Per chi non lo conoscesse, Dollskill è un sito americano che vende un sacco di roba super extra, ma anche in realtà abbastanza semplice. Ad esempio, vi farò vedere, ho preso dei t-shirt e un pantalone tipo salopette. però vende altrettanta, più cose extra che cose normali, diciamo. In realtà, raga, ero su Dollskill perché dovevo prendere il regalo ad Alessandro, però poi ho guardato anche per me, ho messo delle cose anche per me nel carrello, of course. Allora, raga, prima collanina che ho preso, in realtà, una collanina super semplice. In realtà non volevo questa, però quella che volevo io era tipo sold out ed era identica a questa, è solo che al posto di questa scritta c'era scritto Princess. Però poi, scrollando, ho trovato questa che mi piaceva altrettanto e questa qua, invece, ha scritto Baby Girl. Non so se si riesce. Ecco qua. Ed era praticamente identica a Princess, però che ho scritto Baby Girl, con tutti, appunto, gli svaroschini. Poi non so se sono svaroschini o meno, comunque era super, super cute. Poi, raga, un'altra collanina super semplice. Questa, appunto, la pensavo per andare a fare una corsetta la mattina, grocery shopping, portare il cane a spasso, insomma, una cosina così. Ed è questo choker trasparente con scritto Queen, of course. E anche questo ha tutti gli svaroschini incastonati dentro, ma non so se si riesce a vedere. Comunque è questo qua. E questo è proprio tipo un choker trasparente, che, insomma, sapete come sono fatti i choker. E poi questa qua, non mi ricordo, ma mi sembra che l'ho pagata tipo 6 dollari. Non mi ricordo del prezzo originale, comunque costava pochissimo, infatti top. Questa qua non mi ricordo quanto l'ho pagata, raga. Non me lo ricordo per niente. Mi sembra tipo 10 dollari. È questo choker con tutti gli strassini, tutto così. Però è tipo fatto a mo' di cintura, raga. Quindi quando voi lo andate a legare, è come se praticamente... È troppo bello, raga, assolutamente. È come se praticamente vi stesse mettendo tipo una cintura al collo. Non so come spiegarmi. E poi tipo cade... E poi, raga, ho preso queste due t-shirt che quando le ho viste ho detto Girl, you're gonna be mine. Perché adesso capirete, raga. La prima è questa qua. E bam! Cioè, raga, ma vi state rendendo conto dell'iconic di questa t-shirt? È Pamela Anderson in Baywatch. Cioè, assolutamente, raga, iconic. She was such a sex symbol back then. È assolutamente. Appena l'ho vista, poi costava tipo 10 dollari. E poi, raga, ultima, ma assolutamente non per importanza. Questa t-shirt qua, nera, con questa immagine di Anna Nicole Smith con il suo Sugar Daddy dietro un albero di Natale con scritto Blessed. E appena l'ho vista, raga. Io, raga, volevo da un botto una maglietta con soprano Nicole Smith. E le ho sempre trovate tipo su Etsy. Però, raga, le spedizioni di Etsy costano un botto. E per una maglietta non mi andava di spenderle. Quindi non l'ho mai effettivamente trovata. Quando ho visto questo, ho detto no, la voglio assolutamente. Bene, raga, ho zoomato un po' di più la videocamera perché non devo più farvi vedere i vestiti. Quindi non ci serve più spazio, tra virgolette. Proseguiamo con i prossimi prodotti che credo anche siano il motivo della quale mi state facendo ultimamente molti complimenti sui miei capelli. Ossia questo set qua di GHD insomma, come ve lo volete chiamare. Questo qua, raga, era sul sito scontato. Non mi ricordo la percentuale però costava tipo 280 euro, una roba del genere. E io l'ho pagato 200 euro. E praticamente è un set con phone e piastra. Ovviamente io li ho già tirati fuori perché li ho utilizzati. Comunque il cofanetto dentro era tipo così. Allora, primo prodotto è il phone che è questo qua. Mi piace il fatto che sia compatto come phone. Di solito i phone sono molto più grossi. Super super easy. È un phone semplicissimo con appunto i tastini qua quello dell'aria fredda dietro è fatto così super super cute. Sinceramente mi mi aspettavo di più da questo phone in realtà. Non è che mi ha fatto gridare al miracolo ecco. E poi, raga, all'interno c'era dentro anche la piastra e questa è la GHD, raga. Questa è fenomenale, raga. Fenomenale. Questa qua è il modello GHD Gold super super top, raga. Questa l'ho già usata 3-4 volte. Vi dico solo che l'altro giorno sono uscita mi sono presa tutta la pioggia. Sono tornata a casa avevo ancora i capelli lisci così. Vi ho detto tutto, raga. Quindi assolutamente questa vale tutto il cofanetto, raga. Top super super top. credo ci sia ancora il cofanetto non credo sia ancora scontato però insomma, raga se ancora c'è e volete farvi o fare un regalo di Natale assolutamente date un'occhiata a questo cofanetto perché questa piastra è pazzesca. Ultimo accessorio, Amorini, poi si passa ufficialmente al Beauty che penso sia quello che più state aspettando tutti. E chiudiamo in bellezza, Amorini con questi occhiali da sole di Versace. Questi, raga, li ho trovati scontatissimi. Assolutamente li dovevo prendere. Li ho trovati costavano 200 e passa io li ho pagati 160 e questa è appunto la box viene con box la Authenticity Card con appunto il codice del prodotto insomma tutto quanto e gli occhiali, raga, sono questi qua. Non credo riuscirete a vederli li metto così li vedete, raga. Se mi seguite su Instagram sicuramente li avete già visti, raga. Comunque per chi non mi seguisse su Instagram you better follow me e gli occhiali comunque sono questi qua. Io li adoro, raga. Sono favolosi. In realtà non li posso utilizzare tanto perché appena, siccome appena ha fatto il naso in realtà non si possono tenere gli occhiali da sole addosso. Quindi li utilizzati solo una volta per tipo 10 minuti il tempo che sono stata fuori e poi sono ritornata a casa. però sono pazzeschi, raga. Io li adoro. Sono giganti enormi come piacciono a me. Anzi li avrei profitti ancora più grossi. Bene, ragazzi cominciamo ufficialmente con il beauty e allora ho fatto due ordini di Beauty Bay e adesso vi faccio vedere il primo ordine che ho fatto che è appunto questo sito qua. Raga un sacco di voi mi chiedete se è sicuro è affidabile. Ragazzi Beauty Bay è tipo famosissimo è super sicuro io non ho mai avuto problemi. L'unica cosa è che nelle spedizioni sono un po' lunghine ma a parte quello assolutamente top e se è un sito inglese non si paga nemmeno la dogana. E incominciamo con questo ombretto di stila questo è il Glitter & Glow Liquid Eyeshadow nella colorazione Fairy Tail ed è questo qua. Questi ombretti liquidi raga sono pazzeschi perché sono tipo ombretti glitterati liquidi e questo qua è il colore che appena l'ho visto ho detto no vabbè adoro è questo colore qua io non so se si riesce a vedere bene i glitter dalla videocamera eccolo qua è un po' patchy raga ma in realtà penso sia pensato più come top coat perché poi l'ho usato e sull'occhio raga è pazzesco poi raga questa quando l'ho vista scontata di così tanto ho detto no vabbè la prendo in realtà non la volevo prendere ma l'ho presa perché praticamente questa palette è la Life's a Drug di Lunar Beauty il brand di Many MUA e praticamente raga questa palette se non mi sbaglio a prezzo pieno costa tipo 45 euro una roba del genere raga io l'ho trovata su Beauty Bay a 20 euro cioè vi pare che non la prendevo ed è appunto questa qua super super famosa super super conosciuta la palette è questa qui con questi colori qua c'è appunto la parte neutra la parte un po' più colorful insomma favola appena l'ho vista 20 euro ho detto no vabbè la devo prendere in realtà non la volevo però per 20 euro raga vi pare che me la lascio scappare no so she's mine now poi raga ho preso questi due glitter di Festival Face uno nella colorazione Cinnamon Toast e sono questi glitter super super chunky raga uh e li ho pagati tipo 3 euro raga quindi ovvio li ho presi e poi ho preso anche quelli nella colorazione non si sa perché c'è il barcode e sono questi qua che sono quelli un po' più perlati un po' più mermaid insomma avete capito ho preso due cose di Jeffree Star perché in Italia queste non le hanno ancora almeno quando ho visto io queste due colorazioni non c'erano e vi sto parlando della lip liner nella colorazione weirdo che è quella nera appunto e la volevo troppo prendere quella lì nera e tra l'altro raga è super super morbida ed è questa qua guardate quanto è nera e questa qua non so perché su Mario No non c'è o almeno quando ho visto io non c'era I have no idea se adesso c'è oppure no poi raga ho preso un velour liquid lipstick nella colorazione thick as thief che è questo nude qua ve lo swatch e anche questo raga non so perché non ce l'hanno nel sito di Mario No molto simile a Gemini è un nude meno rosso dal vivo in realtà non so perché si vede così tanto in rosso in videocamera comunque è molto molto bello e poi raga per finire ho preso dei prodotti skin care questi qua ho voluto aspettare proprio gli sconti perché li stavo tenendo d'occhio e vi sto parlando di questi due prodotti di star skin questo brand qua e praticamente questo qua è un siero in spray raga allora devo dirvi la verità questo l'ho già usato e come potete vedere raga l'ho anche già quasi finito e questo raga assolutamente lo voglio ricomprare è veramente è un siero idratante spray cioè voi ve lo spruzzate e quando si assorbe è come se avete messo una crema idratante è fenomenale oltretutto raga è al 92% cactus base e 100% naturale e poi questa non l'ho usata tanto a dirvi il vero l'ho usata solo due volte questa invece è la pink cactus pudding e questa qua è al 73% fatta cactus base e 99.3% naturale infatti raga l'inci di questi due prodotti è pazzesco e questa è appunto la crema è tipo una sorta la texture è tipo un souffle raga poi successivamente ho visto che avevano una sezione al 50% quindi tipo gli è impazzita totalmente raga mi stavo dimenticando dell'ultimo rossetto da farvi vedere della prima tranche di beauty bay che è un rossetto di dose of color si chiama lip it up satin lipstick nella colorazione cinnamon swirl questo qua mi sembra che l'ho pagato tipo 12 euro anziché 19 ed è uno dei miei soliti nude raga io sono molto noiosa con i rossetti come potete vedere è praticamente identico quello di jeffrey e nulla io adoro i miei nude medio praticamente raga in questo ordine ho preso solo ciglia finte perché lo trovate tutte scontate al 50% e un illuminante anch'esso scontato al 50% il primo paio che vi faccio vedere sono di questo brand che si chiama prima lash e queste qua sono le luxury mink 3d signature nello stile garnet che è questo qua in realtà è quello che sto indossando adesso sono very very fluffy very very dramatic adoro e sono queste qua raga e queste qua sono sempre prima lash express 100% mink hair e sono queste qua queste sono un po' più cheap da vedere rispetto a quelle che vi ho fatto vedere prima e queste qua sono nello stile hunting e ancora in realtà non le ho provate devo un attimo capirle mi sembrano un po' più cheap rispetto alle altre ma da quel che ho capito questo brand ha un sacco di linee di ciglia finte queste sono tipo quelle più expensive queste sono quelle più cheap poi ne ho preso un'altra che sono tipo una via di mezzo e poi sempre della express 100% mink hair ho preso quelle nello stile revenge che sono queste qua sono giganterrime raga sempre della linea luxury mink 3d signature ho preso le stile morganite che sono queste qua raga sono super giganti poi raga ho preso delle ciglia di doll lash queste qua sono nello stile jasmine che sono queste qua queste raga sono molto naturali molto everyday insomma sono super super carine poi sempre di prima lash questa è un'altra linea e sono le luxury mink e in questo caso ho preso lo stile soho come potete vedere adesso c'è il pack tipo arancione e sono queste qua e credo che queste sono la via di mezzo fra quelle lì nella scatolina di plastica cheap e quelle invece nella scatolina azzurra e queste qua sono le e queste qua sono le soho e anche di queste ne ho prese due paia anche se a vederle poi dal vivo non so quanto mi possono convincere però devo provarle e capire poi sempre del luxury 3d mink signature ho preso lo stile onyx si onyx e sono queste qua queste sono molto più anche queste sono molto big però sono per me sono everyday queste perché sono un po' piccoline belle folte insomma super super cute on a daily basis poi ultimo paio di ciglia finte amitri sono le so su luxury lashes nello stile taylor e sono queste qua queste qua ragazzi in realtà si trovavano si trovano da primark però io non le trovo mai da primark queste qua abbiamo un blush di milani nella colorazione super famosa luminoso e anche questo qua questo qua era al terra scontato al 30% ultimo prodotto che ho preso su beauty bay è questo illuminante di artist couture che è questo brand di questo makeup artist che si chiama mac daddy su instagram non so se lo conoscete e raga è illuminante ormai non si vede più raga perché sto filmando da tipo non so quanto ho questo trucco da non so quante ore però raga è pazzesco questo era l'ultimo rimasto per dirvi perché costavano veramente tipo 10 euro anziché 20 anche questo e questo qua nella colorazione mermaid fantasy questo raga è lo swatch che a me sembra non renda per niente in videocamera ma vi assicuro che dal vivo è bellissimo è tipo trasparente con i riflessi azzurri verdi e la texture raga è super sottile si sfumano in due secondi e in realtà l'ho provato solo una volta raga devo capire bene però a primo impatto mi piacciono veramente tanto tant'è che ne vorrei prendere altri ne volevo prendere altri solo che era l'ultimo rimasto quindi evidentemente raga sono anche abbastanza famosi come illuminanti poi a marina sono passata da sefra in realtà ho preso solo una cosa però ve la faccio vedere lo stesso ed è il fondotinta di la mer il the soft fluid longwear foundation spf 20 che è questo qua amorene ovviamente la vostra amica super fortunata va alla cassa e mi fanno signorina guardi che lo sconto del black friday non c'è più alla fine raga l'ho pagato praticamente a prezzo pieno e a prezzo pieno questo fondotinta costa 100 euro raga quindi fate vobis però l'ho voluto troppo provare raga perché ne parlano tutti benissimo quindi assolutamente ho detto ma si dai proviamolo yala bene raga passiamo a kylie cosmetics perché ho preso letteralmente tre cose era tipo tutto scontato al 50 se non mi sbaglio e ho preso vabbè questa è la box super super cute pink you guys know i love pink e ho preso due cose super penso noiose anche se in realtà io le volevo provare troppo ossia il lip kit candy k che è appunto il primo lip kit che ha fatto uscire raga e poi raga è tipo il primo lip kit che ha fatto uscire cioè quindi assolutamente lo volevo provare questo è un nude color carne rosato e questa è la matita labbra che è un pelo più scura anche se non so se si vede in camera e mi piace il fatto che che la matita labbra sia più scura perché fa tipo un effetto ombre quando la si utilizza infatti in questo caso la matita labbra mi piace infatti la utilizzo però è veramente raro e poi sempre candy k l'ho preso in versione velvet ossia il rossetto liquido quello che non si asciuga e poi ultima cosa ho preso la palette di illuminanti della collezione Kylie Love Jordan che è tipo la sua BFF il packaging raga è bellissimo di questa collezione è super super bello ma in realtà Kylie con i packaging è sempre pazzesca anche se sono un po' da bambina però sono veramente fighi e questo è il pack della palette e la palette di illuminanti è questa qua io raga pensavo fosse un po' più grande di palette cioè di solito le palette degli illuminanti sono un po' più grandine questa è veramente veramente piccola e questi sono gli illuminanti sono tutti in polvere raga devo ancora provarli li ho sbocciati non mi sembrano male ma insomma vi farò sapere anche di lei ok raga siamo all'ultimo pacco ma assolutamente non per importanza io non so se effettivamente c'è ancora qualcuno che mi sta guardando oppure sto parlando da sola ma per chi ci fosse commentate io ci sono sotto nei commenti in ogni caso ultimo pacco di questo Black Friday e ve lo faccio vedere per ultimo perché in realtà questi li ho pagati tutti a prezzo pieno perché praticamente questa è una skin care che volevo provare da un botto è la skin care di Drunk Elephant raga e ne parlano tutti benissimo è solo che è tipo una di quelle skin care luxury tipo 100 euro una crema e su Cal Beauty la vendevano il problema è che su Cal Beauty non c'era tutta la roba che volevo perché c'era il Black Friday e tipo se spendevi un tot avevi un tot di sconto tipo 50 pound avevi il 10% 150 pound avevi il 20% 250 pound avevi tipo il 30% quindi ovviamente con questa roba riuscivi a raggiungere il 30% facilmente e ovviamente non c'era più niente di Drunk Elephant quindi cosa ho fatto sono andata sul sito di Space NK che è tipo una sorta di profumeria inglese che spedisce in Italia e lì li ho trovati però purtroppo a prezzo pieno ma sono sono super excited ragazzi iniziamo dalla cosa meno expensive che ho preso ossia il Leapy Balm che è questo qua super super cute raga anche il pack raga super curato e questo è il balsamo labbra è super nutriente raga però devo dirvi devo dirvi la verità boh non so se lo ricomprerei per quanto sia top ma costa la bellezza di 18 pound che sono tipo 22 euro per un balsamo labbra quindi boh mi sembra un po' eccessivo cioè ce ne sono altre tanti very very good poi Amorine passiamo a questo prodotto qua che è il contorno occhi e si chiama Sea Tango Multivitamin Eye Cream ed è questo qua e questa Amorine è appunto la crema contorno occhi alla vitamina C e oltretutto raga si apre così e il contorno occhi raga l'ho pagato 54 pound quindi una cosa come tipo 60 euro poi raga penultimo prodotto è questo siero qua che a quanto pare è il prodotto più famoso del brand infatti è tipo il 2017 in style best beauty buys ed è il Sea Firma Day Serum ed è questo qua questo prodotto questo prodotto qua raga è tipo il più famoso del brand quindi assolutamente lo volevo provare praticamente questo è un siero alla vitamina C alla vitamina D firming quindi tirante e idratante l'ultima ma non per importanza è la crema idratante questa qua è la Portini Polypeptide Cream questa qua è una crema e questa qua è una crema idratante ed è questa qua e la cosa figa di questa è che tu devi praticamente schiacciare per far uscire il prodotto quindi raga tipo il pack è straigienico favola adoro e la crema l'ho pagata e quindi nulla Morine non vedo l'ora di provare bene bene questa skin care perché ovviamente raga tutte queste cose ancora non le ho provate bene perché sono tutte erano tutte tipo in scatolate per farvele vedere nel video io veramente non so se qualcuno è arrivato fino a questo punto io penso che sto filmando da almeno tre ore raga e non so quanto durerà questo video io come un salito Morine spero di avervi intrattenuto di avervi dato qualche spunto per il vostro prossimo shopping io adoro che ho fatto questo make up casual per un video haul comunque fatemi sapere se vi piace anche il make up se magari volete un tutorial di questo look che mi piace un botto raga oltretutto oggi era tipo una di quelle giornate che non mi usciva niente mi sono truccata e struccata tipo tre volte e poi alla fine mi è uscito questo iscrivetevi al canale seguitemi su instagram che è sempre da qualche parte qua in giro commentate fatemi sapere appunto se avete già provato qualcosa e ora vi lascio vi mando un big kiss and as always keep slaying bitches bye girls merry christmas